la bellezza e l'artista interrogante mi chiedo che cosa mai sia un artista la sulle rive del gange un uomo siede in una piccola stanza scura a intessere in seta e d'oro un meraviglioso sare e a parigi in uno studio un altro uomo dipinge un quadro che lui spera che lo porterà alla fama in qualche posto c'è uno scrittore che sta abilmente scrivendo sull'antichissimo problema dell'uomo e della donna poi c'è lo scienziato nel suo laboratorio e il tecnico che mette insieme milioni di pezzi per poter mandare un razzo sulla luna e in india un musicista vive austeramente per riuscire a trasmettere con fedeltà la filtrata bellezza della sua musica c'è la donna di casa che prepara un pranzo e il poeta che passeggia solo tra i boschi non sono tutti artisti al loro modo mi sembra che tutti abbiamo in mano la bellezza senza saperlo l'uomo che fa dei bellissimi vestiti o delle ottime scarpe la donna che poco fa ha sistemato i fiori sul vostro tavolo tutti sembrano lavorare con la bellezza spesso mi chiedo come mai il pittore lo scultore e il compositore lo scrittore i cosiddetti artisti creativi hanno una tale importanza nel mondo e invece non hanno la stessa importanza il calzolaio e il cuoco non sono creativi anche loro quando considerate tutte le varietà di espressione che la gente considera belle allora che posto a un vero artista nella vita e chi è il vero artista è stato detto che la bellezza è la vera essenza della vita quel palazzo là che viene considerato così bello è l'espressione di tale essenza quel palazzo là che viene considerato così bello è l'espressione di tale essenza sarei veramente contento se trattaste questo argomento della bellezza e dell'artista crescena morti è proprio vero che l'artista è uno che è bravo nell'agire questo agire è nella vita e non fuori di essa quindi se è veramente il vivere abilmente che crea l'artista questa abilità può esprimersi per poche ore al giorno quando lui suona uno strumento scrive poesie o dipinge quadri o può esprimersi per un periodo di tempo più lungo se abile in molte attività frammentarie come quei grandi uomini del rinascimento che lavoravano in molti campi diversi ma le poche ore di musica o di scrittura possono essere in contraddizione con il resto della sua vita che è nel disordine e nella confusione dunque un uomo del genere è proprio un artista l'uomo che suona con bravura il violino ed ha gli occhi fissi alla sua fama non è interessato al violino se ne serve solamente per diventare famoso l'io è di gran lunga più importante della misura e così è anche per lo scrittore o il pittore con gli occhi fissi alla loro fama il musicista identifica il suo io con quella che considera una musica stupenda e il religioso identifica il suo io con quello che considera il sublime costoro sono abili nel loro piccolo campo specializzato ma trascurano il resto del vasto campo della vita così dobbiamo scoprire che cosa è l'abilità nell'azione nella vita non solo nella pittura o nello scrivere o nella tecnologia ma come si debba vivere l'intera vita con abilità e bellezza abilità e bellezza sono la stessa cosa può un uomo sia egli un artista o no vivere l'intera sua vita con abilità e bellezza può un uomo sia egli un artista o no vivere l'intera sua vita con abilità e bellezza vivere è azione e quando quell'azione genera dolore cessa di essere abile può dunque un uomo vivere senza dolore senza attriti senza gelosia senza grettezza senza alcun conflitto il problema non riguarda chi è artista o chi non lo è il problema è se un uomo voi o un altro può vivere senza tormento e distorsioni è irriverente sminuire o schermire la grande musica la grande scultura la grande poesia e la danza vorrebbe dire essere incapaci nella propria vita ma l'arte e la bellezza che è abilità in azione dovrebbe essere operante durante tutto il giorno e non solamente per poche ore questa è la cosa veramente importante non saper solamente suonare il piano in modo meraviglioso dovete saperlo suonare in modo meraviglioso se lo toccate ma non è abbastanza è come coltivare un piccolo angolo di un campo vastissimo ci occupiamo di tutto il campo e quel campo è la vita quello che sempre si fa è di trascurare l'intero campo e di concentrare la propria attenzione su dei frammenti nostri o di qualcun altro l'arte vuole che si sia assolutamente svegli e quindi abili nell'azione durante tutta la vita e questo è bellezza interrogante cosa ne dite dell'operaio di una fabbrica o dell'impiegato di un ufficio sono artisti il loro lavoro non esclude l'abilità nell'azione rendendoli tanto insensibili che non avranno più abilità in nessun'altra cosa il loro lavoro non esclude l'abilità nell'azione rendendoli tanto insensibili che non avranno più abilità in nessun'altra cosa non sono condizionati dal loro lavoro crescerà morti naturalmente ma se si sveglieranno lasceranno il proprio lavoro o lo trasformeranno in modo che diventi arte quello che è importante non è il lavoro ma lo svegliarsi al proprio lavoro quello che è importante non è il condizionamento del lavoro ma lo svegliarsi interrogante cosa intendete svegliarsi krishnamurti vi risvegliano solo delle circostanze delle sfide qualche dolore o qualche gioia o siete sempre sveglio senza alcuna causa se vi risveglia solo un avvenimento una qualche causa allora ne dipendete e quando dipendete da qualcosa sia essa la droga il sesso la pittura o la musica vuol dire che vi state lasciando andare ad uno stato di assoppimento ogni forma di dipendenza e quindi la fine dell'abilità la fine dell'arte interrogante qual è questo altro modo di essere sveglio senza alcuna causa parlate di uno stato in cui non c'è né causa né effetto può esserci uno stato della mente che non sia risultato di qualche causa qui non capisco perché sicuramente qualsiasi cosa noi pensiamo o qualsiasi cosa noi siamo è la conseguenza di una causa esiste la catena senza fine della causa e dell'effetto krishnamurti questa catena è senza fine perché l'effetto diventa la causa e la causa genera altri effetti e così via interrogante allora che possibilità di azione c'è al di fuori di questa catena crescerà morti tutto quello che noi sappiamo è azione derivata da una causa da un motivo azione che è il risultato ogni azione è rapporto se il rapporto si basa su una causa non è altro che un abile adattamento e quindi inevitabilmente conduce ad un'altra forma di ottusità l'amore è l'unica cosa priva di causa libera e bellezza e arte e abilità senza amore non può esserci arte quando un artista sta suonando meravigliosamente non c'è più l'io c'è amore e bellezza e questa è arte questa è abilità in azione abilità in azione è assenza dell'io l'arte è assenza dell'io ma quando rifiutate l'intero campo della vita e vi concentrate solamente su una piccola parte allora per quanto l'io possa essere assente state vivendo senza abilità e di conseguenza non siete un artista della vita e di conseguenza non siete un artista della vita l'assenza dell'io nella vita è amore e bellezza e genera di per sé abilità questa è l'arte più alta vivere abilmente nell'intero campo della vita interrogante o signore ma come devo farlo lo capisco e lo sento nel profondo del cuore che è vero ma come posso fare per mantenervelo krishnamurti non c'è alcun modo di mantenervelo non c'è alcun modo di nutrirlo né di metterlo in pratica c'è solo la sua visione vedere è la più grande abilità ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita condividi nei commenti la tua esperienza metti mi piace e iscriviti al canale di do eia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo nel prossimo video ciao